ciao ragazzi benvenuti al mio canale italiano oggi mi vedete in altri panni quella del pasticcera perché voglio fare i biscotti al burro per san valentino quindi andiamo a cominciare gli ingredienti che ci occorrono sono questi 280 grammi di farina 140 grammi di zucchero 225 grammi di burro un tuorlo d'uovo l'estrato di vaniglia una tenda da forno carta da forno e una terrina mettiamo il burro ammorbidito nella nostra terrina poi aggiungiamo lo zucchero ed iniziamo a mescolare dopo versiamo i due cucchiai di vaniglia e continuiamo a mescolare poi aggiungiamo il tuorlo previamente rotto e lo incorporiamo finalmente la farina e continuiamo a incorporare tutto l'impasto adesso con le mani pulite mettiamo un po' di farina sopra il piano di lavoro per finire l'impasto fino a non rimanere appiccicoso ed ottenere un composto omogeneo liscio poi lo avvolgiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare per un'ora dentro il frigo dopo ritiriamo la pellicola dividiamo l'impasto io ho tagliato in due la carta da forno per estendere l'impasto con il mattarello poi appunto ho scelto delle formine a cuore per San Valentino come mi è venuta l'idea di fare i cookie pops semplicemente l'infilo degli spiedini siccome non ho tutte le formine ho fatto un disegno a forma di matita sopra la carta da forno che dopo la userò per tagliare l'impasto di questa forma avendo fatto già tutti i nostri biscotti li mettiamo nella nostra teglia che dopo mettiamo in fornare a 180 gradi per 10 minuti dopo sfornato lasciamo raffreddare sopra una grattella se volete decorare i vostri biscotti cliccate nel link per la seconda parte ciao 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 ciao